I ragazzi, soprattutto i più giovani, si possono stupire e conquistare anche con le risate e con le gag di quelli che sono i nuovi comici, magari un po' meno conosciuti dei classici, emersi proprio nei tanti film di Natale che ci sono in questo periodo nelle sale. Come Paolo Ruffini, uno dei protagonisti di Natale a New York. Sentiamo Anna Praderio. Perfetto, grazie e filmato. Senti, prendono tutti in giro, è divertente. E prendono in giro perché alla fine è importante scegliere anche la persona giusta, bisogna affidarsi ad un amico, una persona sincera, una persona vera, una persona non come le altre, perché a me a volte se no tenersi le cose dentro, capito? Perché se no poi si diventa anche logoroici e allora non va bene, capito? Non sai a chi rivolgerti. Sai che qualcuno ha detto anche che siamo la coppia televisiva più bella degli ultimi anni? Davvero? Ma chi? Allora, è simpatia, cazzo, vamo di Napoli, eh? Che pensi ce la faremo? Ma la cultura ce l'avrà pur sempre un valore, no? Voglio farla spiegare questi testi, cazzo. Comunque sei sempre una topa esagerata. Una che? Scusate? Una top, cioè sei sempre bellissima. Ah, non capiva la parola. Piacere, buonasera, benvenuta a casa. Non mi sposate? Eh, un po' presto, non lo so. Vremo già 30, sa? Ragazzi, on the beach, on the beach, on the beach. Oh, pelatone! La musica spacca cuori. Tu sei sicuro che vestiti così passeremo in osservati? Ma tranquillo, fidati, no? Grazie a tutti, vi è tornati a Select, forse è uno dei momenti più belli della mia vita. e non vi nego che sono molto emozionato perché è qui con noi Alessandro Bergonzoni. Non è vero. No, come non è vero che ci sei? Ti vestiti di scuradini, cari amici di SkyCine News. Auguri, auguri a tutti, auguri. Auguri di che? Ma che è il compagno tuo? Ma che ci stai facendo? No, faccio gli auguri di buon Natale, amici di SkyCine News. Per una volta abbiamo in mano qualcosa che può far cambiare questo sistema di merda e dobbiamo buttarlo. Cioè con questo li sfruttaniamo tutti. C'è come Antio Pluracchi l'anello? Eh? Puppa, l'anello. Guarda perché c'è quella là al centro. Non è bellina? Molto! C'è una ragazza molto fortunata. Eh, lo so. Io sono abituato a correre, vado veloce, vado veloce, sono abituato a correre, capito? Vado veloce. Senti, scusa, ma... 15 secondi posti, solo 15 secondi. Sì. Mai, ritiri mai, non mi sono mai ritirato perché insomma sono andato sempre bene, sono campione. Ciao. Ciao, Lucignolo. Io sono Pinocchio. Anche tu parti per il paese dei Valocchi? Che c'era Antonio? Perché amici Tony, in che direzione va? Se voi non studiate, cosa fate con le pergamene? Le canne. E vai! Dice che in Paladini forse non viene più a scuola. Non siete più amici. Alla terza... Senti, ma ti cazzi i tuoi? Gentile. Se non posso scrivere un soggetto originale, un film originale, ma piantala, imbecille. Sì, tipo mi ingriffa che sei una ex, mi ingriffa questo, proprio. Brava, sì. Aspetta. Aspetta. Piano, eh. Piano. Adagio. Ma che... Piano. Mamma! 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 Ma che c'è? Niente, non riusciamo a mettere il preservativo. Buonasera, signora. Buonasera, scusi, eh. No, prego. Groppi Paolo, un amico di Alessia. No, è quello dell'Albertino. Non calza, purtroppo. Faccia vedere. No. È una roba da uomini. Chiamo tuo padre. Pietro! Che c'è? Ah, il ragazzo di Alessia non riesce a infilarsi il preservativo. Io non so, vedi un po' tu. Che penso io. Buonasera, babbo. Ah, mi vedi. Buonasera. Fermati, boh, non te muovi. Delicatamente. Cortese... Eh, dagli. Babbo, con delicate... Eh, non me stai fermo. Babbo, ma ci vuole un po' di delicatezza, scusi. Non è mica lo spinto erogero. Eh, eh, Carla. Perut. Corizio, dici, di, 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 di. Amen. No, 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 signorino, non ci siamo. Il sorriso è troppo spento. Ivan, eh dai. Sto studiando diritto penale, mica le parole crociate. No, no, ma studia pure, non mi dai noia. Ma cosa dice? Oh, 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 eh, oh, eh, oh, nah, oh, 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 ah. aga? What do you think about Milan? Is sehr schön hier, mein zohn is hier verheiratet e lebt hier in Deutschland. C'è una città sporca, è una città che è una città molto che non gli piace, credo che proprio li faccia schifo, soprattutto come si mangia e le persone probabilmente non rispettano la sua pettinatura. Allora ci si che? Ci si vede? Sì, sì, mai più. Ciao! Boiate! Sì, sì, mai più.